Il piano casa è un ottimo strumento di lavoro per noi e purtroppo troviamo ancora qualche difficoltà nell'applicazione in tutti i comuni perché non tutti i comuni poi aderiscono a queste iniziative e questo ci trova un po' spiazzati ma siamo comunque fiduciosi che si possa proseguire su questo lavoro tra l'altro questa è una versione migliorativa rispetto alla prima stesura che aveva creato qualche difficoltà e quindi crediamo che appunto in questo modo si possa avere ancora ulteriore impulso Ci saranno anche delle richieste concrete in questo ancora? Sì credo di sì, intanto gli operatori vorranno sapere anche l'esito dei ricorsi che sono stati fatti per capire poi bene l'applicabilità completa e poi quello che si chiede è che dalla regione arrivino delle indicazioni precise anche sul recupero del patrimonio edilizio esistente legato all'efficientamento energetico e al miglioramento del patrimonio nel suo insieme non siamo più quei costruttori che vogliono costruire utilizzando il suolo vergine sappiamo che c'è molto da fare nel campo del recupero, il piano casa ne è un esempio possiamo anche noi fornire qualche idea per proseguire su questi temi Il piano casa applicato dal gennaio 2016 sta già dando buoni risultati poiché sono diversi comuni che lo stanno applicando noi abbiamo avuto anche uno scambio di mail proprio con tutti quei comuni ai quali abbiamo chiesto l'applicazione in che modo veniva applicato nelle loro realtà il piano casa e abbiamo delle risposte che sono soddisfacenti il piano casa è una riqualificazione dell'esistente, non è nuova cementificazione ma si interviene sul costruito ed ha la possibilità anche demolendo quelle situazioni fattiscenti di mettere in sicurezza zone che in Liguria sappiamo essere diverse gli edili hanno delle richieste comprensibili perché vogliono norme chiare, semplici che già dall'inizio della loro fase dell'iter burocratico chiariscano quelli che possono essere gli interventi da fare e quelli che invece non possono essere realizzati noi stiamo lavorando anche attraverso il Grovat e nelle prossime settimane andremo per l'iter in commissione prima in giunta e poi in commissione con semplificazioni di norme che possono permettere ai comuni di fare meno atti burocratici quindi meno passaggi in consiglio comunale e più atti che possono essere fatti direttamente dagli uffici tecnici e allo stesso tempo il privato quindi può avere risposte più celeri in tempi più rapidi perché il problema maggiore che noi riscontriamo è che spesso le leggi sono da una parte incomprensibili e dall'altra parte molto lente noi andiamo nell'ottica di semplificare norme e quindi speriamo con questo di poter dare un segnale, un forte input alle delizia Qui siamo alla scuola di lei di Savona, quali le misure per questo territorio? Savona è una città importante della Liguria, merita diverse considerazioni in questi anni abbiamo notato che Savona purtroppo con rammarico si è un po' fermata in alcune misure che possono essere fatte ad esempio nel centro ci sono zone che necessitano una riqualificazione, un rilancio anche perché Savona vuole avere una vocazione non solo imprenditoriale, industriale ma anche turistica quindi credo che sia il piano casa ma anche le nostre norme che sono in itinere in questi mesi, in queste settimane possono dare un contributo anche a questa città che merita un rilancio importante